Mentre gli alloggi vanno sempre più giù, sprofondandolo in degrado, i canoni di locazione salgono alle stelle. La rabbia e la disperazione degli inquilini, degli alloggi popolari, ormai non ha più limiti. Per il giorno 30 marzo l'Assocasa ha organizzato una manifestazione a Napoli, un presidio davanti al Palazzo Santa Lucia, sede della regione Campania, per sensibilizzare l'ACER e le istituzioni sul dramma casa in Irpinia. In alcuni quartieri di Avellino, come Rione Parco, Rione Mazzini e Valle, ribadisce il vertice di Assocasa. Gli alloggi popolari sono invivibili, carcassi che d'inverno si trasformano in celle frigorifere. In estate diventano delle topaie, inagibili tra pareti colabrodo e pannelli di amianto. Nel mirino del sindacato anche nuovi alloggi di via Inbimbo e via Francesco Tedesco, consegnati da pochi mesi agli inquilini e in alcuni casi già ai limiti dell'agibilità per la presenza di bunfe e filtrazioni d'acqua. Una situazione insostenibile, avverte Elio Amodeo, presidente della sua casa, appesantita dal blocco delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi in preparazione anche della manifestazione che si terrà a Napoli a fine mese e gli ultimi poco rassicuranti sviluppi sull'emergenza a casa. Il sindacato, che tutela gli inquilini, ha tenuto un'assemblea al ciclo della stampa di Avellino. Ora la protesta dopo i sit-in e i cortei di Avellino si sposta a Napoli. Se necessario andremo a far sentire la nostra voce anche a Roma, così suona la carica a Modeo con il suo esercito di inquilini.